Non credo allo specchietto retrovisore, sto accompagnando i Traverse Companions Mentre la nuova frecce dall'emozione, non vi perdite i Traverse Companions Io ho il telefono per dirvi che ci sarebbe l'eventualità di riavere la macchina a temperanto con una piccola somma Ma quale macchina? La macchina vostra, signore E perché? Signore, la macchina vostra ce l'abbiamo noi Ma noi chi? La camuffa, signore, stiamo facendo un cavallo di ritorno La camuffa? La macchina sta qua, non vi preoccupate, allora volete o non volete? Eh, dipende, ma quanto volete per dirla? Ma guardate, la macchina è vecchia, è ridotta male, diciamo che con 500 euro la camuffa 500 euro? E 500 euro? No, ma che 500 euro? No, no, qua dobbiamo trattare E che volete trattare con la cavolla? Eh, trattate con la cavolla, se no ve la tenete la macchina Allora, guardate, prima di tutto non è vecchia, la macchina ce l'ha poco più di un anno Poi? Poi non è vero che è ridotta male, come dite voi, perché sta benissimo Sì, non è vero, quello c'era pure tre botte sulla portiera e mi pare pure due davanti Sì, ma non sono botte, quelle sono graffi che vanno vigore un po' che passa a Brasile Ah sì? Eh, poi c'è i cerchi in lega, la vernice metallizzata, il filtro antiparticolato Ah, ma chi ti serve? Eh, euro 4, col buon l'ho già pagato già per tutto in 2012 E allora cosa fa? Eh, allora, credete che meno di 2.000 euro non se ne fa niente 2.000 euro? 2.000 euro, prenderlo o lasciato 2.000 euro Ma fatevi un attore Eh, pensate, ma fate un affare, eh? Eh, ma poi, a me ti raccino qui, eh, il c'è mio, ci sei urlato insieme Eh, va bene allora, eh, come facciamo per lo scambio? Allora, voi venite da solo, avanti al bar di Giupone Eh, a mezzogiorno con i soldi, noi arriviamo con la fiesta e finichiamo La fiesta? C'è la macchina a vostro Ma quale fiesta? O la Multicla? La Multicla? Eh, scusate un momento, a pieno bacino Com'è? 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 E non lo vuoi Scusate, ma voi siete le signor Cavallo? Car Cavallo? Voi siete vissato, io Cavallo Ah, ma voi non avete una fiesta anzulla con la stemma del lavoro sul Panamale? Ma quando, ma, vieni con i buchini mi avete preso C'è, allora ci faiate l'unione Eh, vi faiate l'unione Scusate allora, eh Vabbè, ci sono cose che cazzo, ma avete... Certo, ma voi che non ho capito, no? Eh Ma secondo voi, quando posso chiedermi una fiesta? Ma... Voi cominciate a chiedere duemila euro, come avevamo fatto il tweet Poi magari trattate il massimo del venticinque per cento, guarda... Voi dite? Vabbè, 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 vabbè Gli ho visti, sì, chiedevano Per andare dove andare, per dove dobbiamo andare Gli dico, mmm, difficile Con quel volo un'occasione, un improvviso cicerone Non credo allo specchietto retrovisore Sto accompagnando i travel companions Mentre la nome frecce dall'emozione Non vi partite traverti un ferio